Peccato Peccato davvero perché Stasera l'Iventus non meritava di perdere questa partita L'Iventus stasera non meritava di Di perdere per 1-0 Davvero in rare occasioni quest'anno mi è capitato di dire una roba del genere Dir la maggior ragione Contro la squadra capolista della Serie A Che tra qualche settimana se non giornata Non so quando sarà l'ufficialità non ho idea Alzerà poi il tricolore Beh fa ancora più effetto Credo che sia stata una partita Parto dalla parte che mi piace di meno commentare Per poi arrivare nel finale A commentare il calcio Perché stasera c'è stata una partita davvero Non mi è piaciuta tanto la direzione arbitrale Vado un attimo a sviscerare i particolari episodi Partendo dal presupposto che se me la gestione dei cartellini in primis è stata Un pochettino così Non sto dicendo che il Napoli abbia vinto per l'arbitro Attenzione non è assolutamente questo Anche perché per me nel primo tempo siamo stati abbastanza fortunati Perché Gatti ha rischiato per quanto mi riguarda Quell'intervento su Varascheia E se fossero andati magari all'onfield review A vedere al VAR Potevamo magari ritrovarci con un uomo in meno Quindi non è un discorso di arbitro unidirezionale Proprio secondo me la gestione di stasera dell'arbitro non è stata ottimale Tanti cartellini che sono stati dati ai giocatori Io di Locatelli e Rabiot Sono stati un paio di munizioni del primo tempo Che secondo me sono state abbastanza discutibili Diciamo così Punto l'episodio di Gatti Che poteva essere interpretato in altro modo E poi c'è l'episodio madre della Juve Che segna il gol dell'1-0 A dieci minuti dalla fine Con Di Maria Su una ripartenza E per fortuna stasera Almeno in quell'occasione la Juventus Aveva fatto una gran ripartenza È un chiodo che in stagione ho battuto Non so dire quante volte Mille Duemila Non lo so una roba del genere Non siamo bravi sulle ripartenze Non siamo eccezionali sulle ripartenze Lì l'avevamo fatta molto bene È il classico intervento ragazzi Cioè Va proprio detta secondo me sta cosa È il classico intervento che in diretta Può fischiare o non fischiare fallo Infatti l'arbitro tra l'altro Era ben lì posizionato L'ha visto da lì E quindi l'aveva giudicato regolare In un primo momento Poi tra l'altro a quanto ho capito pure Milik poi ha ammesso Che ci poteva stare il fallo Una roba del genere Se lo vanno a richiamare all'arbitro Se lo richiamano al VAR A controllare al VAR Quell'intervento viene fischiato sempre Perché comunque Milik impatta sul pallone certo Ma prima va a toccare la gamba dell'avversario Quindi ripeto È il classico intervento che Se non fosse stato all'interno di un'azione da gol Quella roba lì L'arbitro La discrezione dell'arbitro In campo Per l'unica volta che la Juve ha fatto una ripartenza Invece è successo che Si è andato a controllare Ripeto Tutto sommato è stata una partita che Siccome l'arbitro non ha gestito nel migliore dei modi Non sto dicendo che la Juve abbia perso per l'arbitro Il Napoli abbia vinto per l'arbitro Però è stata una partita sicuramente Con degli episodi Per quanto mi riguarda invece la Juventus bene Stasera O comunque meglio Di quanto mi potessi aspettare Contro una squadra di questo tipo Attenzione perché poi il Napoli Ha iniziato ad alzare giro il motore Intorno al minuto 70 75 ha iniziato a diventare una squadra diversa Una squadra che arrivava alla conclusione molto spesso Cosa che nel primo tempo non gli era successa Non era stato in grado di fare Infatti il Napoli chiude il primo tempo con 0 0 tiri in porta E questa cosa sicuramente È un inedito A maggior ragione se andiamo a controllare Il tipo di formazione che è stato schierato da Allegri Sicuramente è una formazione Riassemblata negli uomini E anche nel modulo Forse esagero? Secondo me no Vi dico che questa sera Non che sia stata la miglior partita Giocata dalla Juve Robo del genere Perché sicuramente abbiamo visto Delle partite migliori Giocate dalla Juve in stagione Non sono tante le partite Che la Juve ha giocato bene Però ce ne sono state due o tre Che la Juve ha fatto di buon livello Ma una cosa stasera mi è piaciuta Più forse di tutte le altre Che ho visto in stagione E cioè il modo in cui è stata preparata Questa partita Perché c'erano delle scelte discutibili Sulla carta Per come erano state messe giù Una sorta di 3-5-1-1 Che dice Ma perché Sule Perché ancora niente fagioli Perché ancora Miretti Rugani Domani voglio fare Una sorta di approfondimento Tattico Sulla questione Però Allegri l'ha giocata 4-4-1-1 In fase di non possesso Con Praticamente Sule che andava a fare l'esterno di destra E Kostic l'esterno di sinistra E Miretti che andava a uomo Sulla botca In appoggio a Milik Quindi il giocatore Sulla tre quarti Che andava a marcare A controllare Il Praticamente il regista Della squadra Di Spalletti E andava a limitarlo tantissimo Così come Sule andava a dare Una mano a quadrado Su Kvarascheglia Una sorta di raddoppio Sull'esterno E quando si attaccava Miretti e Sule stringevano Sull'esterno E questo Cosa succedeva Generava tanta ampiezza Da parte di Kostic Di quadrado Che aveva la possibilità Grazie a dei cambi gioco Rapidi di Locatelli Che siccome ha fatto Una partita meravigliosa Stasera Locatelli Di andare a attaccare Sugli esterni Di andare a mettere Dei cross Perché l'avevamo visto Nella preview di oggi Se la Juventus Poteva sperare Di una possibilità Era proprio Sviluppare il gioco Sugli esterni E andare al cross E proprio da lì Anche nel primo tempo Due o tre occasioni Nitide la Juventus Le aveva generate Proprio da quell'occasione lì Poi purtroppo Il non aver segnato In quelle occasioni A volte la mancanza Di precisione Dei giocatori Negli ultimi metri Perché tante volte Si dice Ma sbaglia l'allenatore Sbagliano i giocatori Secondo me stasera L'allenatore Allegri L'ha preparata molto bene E ci sono state tante occasioni Mi viene in mente Kostic Che ha fatto una partita Da stantuffo Ovvero è proprio Ha fatto la spolla Mille volte Però tante volte arrivava lì E gli mancava la precisione Nel cross Gli mancava la precisione Nel passaggio Nella lettura E Vati è stato sostituito Perché probabilmente Kostic non è ancora Al 100% La condizione fisica mentale Dato che ne ha giocate Tantissime In stagione Quindi sicuramente è stanco Però stasera si è visto Che mancava Quell'imprecisione lì Quindi io Stasera Stasera abbiamo perso Stasera abbiamo perso Ma io sono sereno Sono sereno Per quello che ho visto Perché davvero Penso che l'allenatore L'abbia preparata molto bene Penso che i ragazzi Ci abbiano messo cuore Penso che anche i giocatori Che sono stati schierati Dal primo minuto Che magari non erano abituati A giocare partite Di questo tipo Dal primo minuto Si sono ben comportati Quelli che poi sono entrati Hanno provato A mangiarsi la partita Appunto di Maria Chiesa Ci hanno provato Poi purtroppo Non è andata Fagioli stesso Non è andata È una partita episodica L'abbiamo visto Il fallo che viene Visto al VAR Magari il rosso Che non viene dato E poi magari Il gol del Napoli Perché Quadrado Rimane in area Di rigore avversaria Per terra Pensando di aver subito Fallo di rigore Quando io in realtà In diretta Pensavo che Ci fosse stato un impatto Sul piede di Quadrado Sul piede di appoggio di Quadrado Vedendo un replay Perché ne ha mostrato Solo uno Sembra davvero che Quadrado Invece scivoli E vada lui addirittura A toccare poi Il difensore del Napoli Quindi è una partita Purtroppo episodica Che non credo Che il Napoli Abbia meritato Secondo me stasera Era una partita Era pareggio Lo 0 a 0 L'1 a 1 Secondo me erano Risultati Più che giusti Quindi da una parte Vi dico Sono sereno Perché Fossero state tutte così Le sconfitte Della Juventus In stagione Ci avrei fatto una firma Lo dico tranquillamente Perché almeno Sono rimasto dentro La partita Ho visto una squadra Che ci credeva Ho visto Una preparazione Di un certo tipo Quindi Da questo punto di vista Ripeto Magari fossero state Tutte così Le sconfitte Però Concedetemi Dall'altra parte Dall'altra parte Un'altra roba Devo dire Quanto rammarico Una partita del genere Secondo me Aumenta il rammarico Perché Si è visto Cramorosamente Che stasera I calciatori Avevano Uno spartito I calciatori Stasera Erano stati Istruiti Ottimamente Dall'allenatore E tante volte Questa cosa Purtroppo In stagione Non l'abbiamo vista E credo che sia stata Anche la grossa differenza Tra l'Allegri 1 E l'Allegri 2 L'Allegri 1 Lasciava libertà I calciatori Certo Ma avevano Una sorta di copione Che andavano a recitare Dentro la partita Nell'Allegri 1 Questa cosa L'ho vista Sempre meno Stasera E' sembrata Quasi una partita Extra Rispetto a quelle Solite che si giocano Della Juventus Proprio perché I calciatori Si muovevano Secondo uno spartito Poi certo Non erano meccanismi Perfettamente oliati Perché Non siamo abituati Non abbiamo Organizzato la stagione Su questo tipo di lavoro Quotidianamente Quindi non può Venire fuori Però la domanda Che vi faccio è Avete davvero visto Una partita Tra una squadra Il Napoli Che sta Stradominando La Serie A E' una squadra Juve Che sta facendo Una stagione Invece nello stesso Campionato Che oserei definire Tra il buono E il discreto Che quindi Non è un distinto E non è un ottimo E' una squadra Che si trova Al terzo posto In classifica Ma con una valanga Valanga Di punti Che la separano Dalla prima posizione Nella quale Poi non è nemmeno Entrata In lotta Anticipo Però Perché qualcuno Mi dirà Sì però Il Napoli È calato Sì il Napoli È calato Il Napoli Sicuramente In questo momento Ha poche O comunque Meno energie Rispetto a prima Però abbiamo visto Che quando il Napoli Negli ultimi 20 minuti È salito in cattedra C'è stata un'azione Meravigliosa Del Napoli Con Osimène Che poi becca il palo E poi si guadagna Il calcio d'angolo E poi ha un'altra Occasione di testa Meravigliosa del Napoli Perché quando il Napoli Si accende È in grado Di fare quelle robe lì Però io stasera Ho visto Una partita Tra due squadre Che se la sono giocata A viso aperto Fino alla fine Secondo me è stata anche Una cosa che Non si vede spesso Una partita Con tanti minuti effettivi Perché comunque nel primo tempo I primi 20-25-30 minuti Eravamo in live Non riuscivamo a cambiare schermata Per andare a capire Come era messa la Juventus Perché si vedeva Qualcosa di diverso Dal solito Uno schieramento particolare All'inizio sembrava Sulle mezzala di destra Invece Poi ci siamo accorti Che non era così Abbiamo capito Perché era lì Qual era la posizione Qual era il compito E non riuscivamo Non riuscivamo a cambiare schermata Perché si continuava a giocare Non si fermava mai il pallone Quindi stasera Dispiace Perché Quando perdi Poi non sei mai contento E sapete bene Che io sono Molto attaccato ai risultati E poi vincere stasera O comunque Fermare il Napoli Uscire senza una sconfitta Stasera Sarebbe stato meraviglioso Anche complice La sconfitta di ieri Della Lazio Per cercare di muovere qualcosa Però Ho delle sensazioni Più positive adesso Per andarmi a giocare La partita di mercoledì Con l'Inter Perché se davvero Viene Deciso Di Impacchettare L'Inter Come è stato impacchettato Il Napoli stasera A livello di preparazione Della gara Ci sono delle grosse Grossissime possibilità Di andare avanti Perché l'Inter Non è a livello Di questo Napoli Sebbene sia andata avanti In Champions League Il Napoli sia uscito Il Napoli è più forte Di quest'Inter Lo sappiamo L'abbiamo visto Quindi Esco con delle sensazioni positive Stasera Una sconfitta Che secondo me Non ci stava Una partita Che purtroppo Episodiche Stavolta Gli episodi Non hanno sorriso La Juventus Ma una partita Che secondo me Ci ha dato delle risposte E che ci fa aumentare Dei rimpianti Perché questa stagione Poteva essere decisamente più Di quello che abbiamo visto Quest'anno E secondo me Stasera Ne abbiamo avuto la riprova Ciao ragazzi Ciao ragazzi